Le Dune sotto le stelle 2018, un imperdibile cartellone di eventi estivi nell'incantevole scenario delle Dune, città mediterranea. Musica live e danza fronte mare, spettacoli in collaborazione con i nostri partner. Le Dune, città mediterranea, a Silvi Marina in via Rubicone 2. Sabato 14 luglio alle ore 21, Two Friends, Regina Iacomelli e Piero De Magistris, Piano Barra.